Professor Biondi, è doloroso chiederlo, ma se i fratellini fossero stati vaccinati poteva salvarsi? La risposta è no e non cerchiamo, soprattutto in questa cosa dei fratelli, l'ha preso dai fratelli, ma è fuori da ogni pensiero, da ogni possibilità. Anche i fratelli si sono ammalati perché abbiamo vissuto un periodo dove noi, come i nostri colleghi della malattia infettiva degli adulti, hanno vissuto il fatto di vedere le fasce più piccole e le fasce più di persone giovani adulti che si sono ammalati di morbillo.